Un curiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura. Parliamo di una brutta pagina di sport che si è consumata allo stadio di Anghiari. Vediamo il servizio. Lo hanno cerchiato per non aver concesso il rigore alla squadra di casa nei minuti finali della sfida. Così un giovane arbitro si sarebbe visto arrivare all'improvviso addosso non solo i giocatori ma anche alcuni componenti della panchina. È successo a Anghiari, allo stadio Procelli, dove si stava disputando una partita del campionato amatoriale di Città di Castello. In campo i padroni di casa del Gricignano e il Pistrino. Gli ospiti erano avanti per 2-1 quando, quasi alla fine del secondo tempo, nell'area di rigore c'è stato un contatto col Gricignano che ha chiesto la concessione del penalty. L'arbitro invece ha deciso per una punizione a favore di chi difende. Da qui la violenta reazione dei giocatori in campo ma anche della panchina, immortalata in questo video che sta facendo il giro dei social. Nelle immagini si vede il giovane arbitro che cerca di schivare i colpi per poi fuggire negli spogliatoi e chiamare le forze dell'ultimo. La partita è così finita lì, sospesa perché non ha fatto in tempo a dare il triplice fischio. Riportato alla normalità anche grazie ai calciatori ospiti che hanno placato gli avversari, il direttore di gare è stato costretto a far ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Sansepolcro con una prognosi di 5 giorni. Adesso è atteso il verdetto del giudice sportivo ma comunque ancora una brutta pagina di calcio nell'aretino. Solamente alcune settimane fa un altro arbitro era stato aggredito dal papà di un baby giocatore dell'Arezzo a Pontedera. Ancora cronaca controlli e stangate alle fiere di mezza quaresima. I carabinieri forestali sono intervenuti nei giorni scorsi con i nuclei di Sansepolcro, Badiate d'Alda, Cortona e Monte San Savino con il supporto dei tecnici della ASL Toscana Sud-Est e della Polizia Municipale di Sansepolcro. Ad un espositore è stata contestata una sanzione penale per aver messo in vendita formaggi e salumi detenuti in cattivo stato di conservazione, spiegano i forestali, a rischio e pericolo dei tanti cittadini ignali di acquistare cibi potenzialmente avariati e alterati con possibili effetti negativi sulla salute. Inoltre i militari hanno contestato due sanzioni amministrative da 4.000 euro per mancata esecuzione dell'autocontrollo circa la corretta conservazione dei prodotti alimentari, una sanzione amministrativa da 1.000 euro per aver esercitato la ristorazione in assenza della specifica autorizzazione e ancora una sanzione amministrativa da 5.000 euro per aver messo in vendita decine di capi di abbigliamento e accessori in assenza di un'autorizzazione a discapito di altri espositori che avevano invece ricevuto regolare posteggio pagandone il tributo. E adesso passiamo alla cronaca giudiziaria perché è arrivata la sentenza per l'uomo al volante dell'autocarro che travolse e uccise il 31enne Daniele Saltapari. Ce ne parla Chiara Sadotti. Daniele Saltapari aveva 31 anni, era appena uscito dal lavoro e stava tornando a casa quando in sella la sua moto è rimasto vittima di un terribile incidente stradale. Adesso l'uomo che si trovava al volante dell'autocarro che lo travolse ed uccise ha patteggiato la pena di un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena e sospensione per un anno della patente. La sentenza è stata letta dal giudice del Tribunale di Arezzo Claudio Lara. L'accordo tra le parti prevedeva una pena di oltre due anni scontata di un terzo per fatto concursuale ed un altro terzo per il rito alternativo, ovvero il patteggiamento. La tragedia risale al 7 luglio 2023 lungo la provinciale della Libia di fronte all'incrocio per Patrignone. Nel corso delle indagini preliminari era stata ricostruita la dinamica dell'incidente esaminando esiti dei rilievi della Polizia Municipale, planimetrie e documentazione allegata, foto e video di telecamere e di video sorveglianza. Era stato conferito anche un incarico per un accertamento irripetibile all'ingegner Fabio Canè con l'obiettivo di chiarire le cause dell'impatto. A chiedere gran voce giustizia per Daniele era stata la famiglia rappresentata in aula dall'avvocato Corrado Brilli che ha lottato anche cercando foto e video. Secondo i familiari restano ancora alcuni dubbi da chiarire. Ancora disagi nel tunnel Piffarino sulla quattro corsie tra Palazzo del Pero e Le Ville. Dopo il sinistro avvenuto ieri pomeriggio si è verificato oggi pomeriggio invece un altro incidente con feriti. Si tratta di un'auto con a bordo due persone di origine cinese residenti a Firenze che è sbandata. Il conducente non è riuscito poi ad evitare l'impatto tra la sua vettura e la parete della galleria. I due feriti sono finiti in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. A seguito del primo incidente se ne è poi verificato un altro all'interno della stessa galleria con un tamponamento che ha coinvolto un'automobile e un furgone. E adesso parliamo di maltempo perché prosegue l'allerta gialla per la regione toscana e nella nostra provincia spunta anche la neve. Vediamo. Siamo nella strada che porta al santuario della Verna Alto Casentino nella foresta sacra. A postare sui social il video della prima e forse ultima neve di quest'anno è il sindaco Giampaolo Tellini. Un meteo decisamente insolito, quello dell'inverno che ci stiamo lasciando alle spalle, che ha visto toccare punte anche di 20 gradi per la temperatura massima nel mese di febbraio. In queste ore invece il maltempo, soprattutto con la pioggia, è tornato ad affacciarsi in Toscana, tanto che per le prossime ore è stata prorogata l'allerta meteo da parte della Sala regionale di protezione civile. Il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore è fino alle 19 del 28 marzo. È infatti previsto per le prossime ore un nuovo peggioramento. In particolare sulle zone centro-settentrionali sono attese piogge sparse localmente a carattere di rovescio o temporale, previste anche occasionali grandinate e colpi di vento. E questa mattina il questore della provincia di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo, accompagnata dall'ispettore Ugo Bonelli, ha fatto visita a Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro. In questa occasione il questore ha donato al vescovo un'ampolla contenente l'olio del Giardino della Memoria di Capaci, inviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza a tutte le questure del territorio nazionale per essere utilizzato nelle diocesi nel corso della Santa Messa di consatrazione degli oli liturgici che ad Arezzo sarà celebrata domani in cattedrale. L'olio è stato prodotto dall'Associazione Quarto Savona 15 che prende il nome dalla sigla radio dell'equipaggio della Polizia di Stato e di scorta al giudice Giovanni Falcone. Nel luogo della strage, avvenuta il 23 maggio del 1992, sorge infatti un giardino dove sono stati piantumati degli olivi dedicati ognuno ad una vittima innocente delle barbarie mafiose. E adesso andiamo a Castiglion Fiorentino. Giocando si impara a rispettare l'ambiente e questa mattina alla Scuola dell'Infanzia Broggi di Castiglion Fiorentino si è tenuta la prima di una serie di gioco-lezioni che hanno come fine la divulgazione delle buone pratiche da adottare per tutelare l'ambiente. Maestra d'eccezione è stata l'assessore all'ambiente Francesca Sebastiani che, coadiuvata da un operatore 6, gestore della raccolta della nettezza urbana, hanno raccontato ai piccoli studenti come fare la raccolta differenziata a Scuola di Ecologia con il Comune di Castiglion Fiorentino e 6, quindi per promuovere nelle giovani generazioni i principi della cittadinanza consapevole e facilitare l'apprendimento sul tema del ciclo dei rifiuti. E adesso torniamo ad Arezzo perché continua a far discutere il cantiere di Via Fabio Filzi, ormai da tempo abbandonato. A preoccupare ora è anche l'emergenza, larve e zanzare. Il servizio. Già abbiamo cominciato a vedere le prime zanzare e ancora siamo a marzo, quindi mi immagino quest'estate nel piano del caldo quello che succederà. A preoccupare adesso in Via Fabio Filzi sono anche le larve e gli insetti nel ristagno d'acqua che si è formato all'interno del cantiere ormai da tempo abbandonato. Questo infatti è lo stato dell'aria nella quale sarebbe dovuta sorgere la nuova sede della Polizia Municipale di Arezzo. All'interno si sono create delle piscine di acqua di notevole dimensioni e sono estremamente pericolose anche con l'approssimarsi della stagione estiva, quindi c'è l'allarme d'engue direttamente dalla regione toscana. Siamo vicini a delle scuole, siamo vicini a delle situazioni non più sostenibili. I residenti hanno così preso carte e penne scritto a sindaco e asla per chiedere l'immediata messa in sicurezza. Bisogna intervenire in maniera massiccia, non con una semplice disinfestazione, ma bisogna evitare che lì rimanga l'acqua e sia veramente il cantiere messo in sicurezza. I lavori erano iniziati nell'ottobre 2021, sarebbero dovuti durare circa un anno. Un'operazione di leasing costruendo nel quale un raggruppamento temporaneo di imprese ha rilevato dalla diocesi che ne era proprietaria allo stabile. E poi doveva realizzare, completare i lavori, una volta completati iniziava sostanzialmente a riscuotere un canone di locazione per un certo numero di anni, un leasing sostanzialmente e poi il comune dopo 15 anni avrebbe riscattato l'immobile e sarebbe tornato nelle disponibilità totali del comune. Ma nell'aprile dello stesso anno la battuta d'arresto. Nel corso dei lavori sostanzialmente le imprese esecutrici si sono volatilizzate. Quindi la decisione da parte del comune della risoluzione del contratto e dell'escussione delle polizze assicurative. Stiamo lavorando di alcuni mesi per trovare una strada che in qualche modo ci consenta di ripartire salvaguardando ovviamente la natura del contratto di leasing perché ovviamente la rottura, la recissione del contratto di leasing poi dopo sarebbe irrecuperabile e quindi ci troveremo di fronte a un immobile proprietà dei privati in quelle condizioni. Per cui il comune ha ricevuto ovviamente queste istanze da parte dei cittadini, sono state anche inoltrate all'autorità competente in maniera di igiene e salute, sono l'ARPAT e l'ASL. Se queste sono le condizioni ovviamente si può emettere delle ordinanze ma poco più possiamo fare nel senso quindi l'obiettivo invece è quello di ripartire. Oltre alla salute pubblica in via Fabio Filsi resta anche l'allarme sicurezza lanciato ormai da anni dai residenti. Quotidianamente lì è ritrovo di spaccio e di persone che si scambiano palesemente le dosi dalla luce del sole per cui è necessario che il sindaco, il prefetto e tutte le autorità competenti intervengano velocemente. Noi siamo veramente stanchi come tutti, come abitanti della zona, di vedere una situazione degradata così. Ed è stato presentato questa mattina sempre dall'assessore Marco Sacchetti il percorso partecipativo propedeutico alla costruzione del piano di azione necessario al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Green City Accord a cui il comune di Arezzo ha aderito e che impegna le città europee firmatari a rendere le aree urbane più sane, più verdi e più pulite. Il percorso al quale sarà dedicato un incontro pubblico di lancio che si terrà mercoledì 3 aprile alle 17.30 alla Casa dell'Energia prevede una serie di appuntamenti che calenderizzati nel periodo di aprile-giugno approfondiranno in specifici tavoli tematici i temi oggetto delle 5 aree individuate dal documento ovvero qualità dell'aria e rumore, acqua, natura e biodiversità, economia circolare e rifiuti. Gli incontri vedranno la partecipazione di stakeholders appartenenti a tutti i settori della società civile insieme a rappresentanti politici, istituzioni, gestori dei servizi, scuole e università insieme a istituti di ricerca, associazioni, ordini professionali, associazioni di categoria, ognuno dei quali potrà portare il proprio contributo e le proprie idee per raggiungere gli obiettivi del progetto. E la storia economica di Arezzo è stata raccontata dal giornalista Claudio Repek con la consueta lezione di educazione civica al liceo scientifico Redi di Arezzo ed è stata organizzata come sempre dall'associazione Intratevere ed Arno. Questa sera alle ore 21 andrà in onda la lezione integrale nella nostra emittente, ma intanto vediamo un piccolo estratto. Le ragazze, perché si parla di donne di 16 anni, che entravano in fabbrica agli inizi degli anni 50, volevano semplicemente scappare dai campi, tentare di avere una vita diversa da quella che avevano avuto le loro madri e le loro donne. Erano in fuga alla ricerca di qualcosa che non conoscevano, perché per molte l'industria fu una sorpresa anche sgradevole talvolta. Le ragazze di oggi, penso, abbiano linee di sviluppo e di ricerca del lavoro che sono proprie e diverse da quelle delle ragazze degli anni 50. È stato il giornalista e scrittore aretino Claudio Repec a ripercorrere davanti agli studenti del liceo scientifico Redi la storia economica di Arezzo. Dalle prime leboline, le operaie di una delle più grandi aziende di confezioni dell'aretino nel dopoguerra ad altre storie di aretini illuminati che negli anni della ricostruzione hanno poi fatto letteralmente la fortuna di un intero territorio. Il tentativo è di raccontare mezzo secolo di trasformazioni economiche del territorio con le parole dei protagonisti. Da una parte gli imprenditori e gli imprenditrici, cioè quelli che hanno creato le industrie, e le hanno create con un obiettivo che allora era soprattutto quello di creare prima occupazione e poi profitto. E poi con le storie degli operaie e degli operaie, soprattutto dal punto di vista degli operaie, la storia della seconda metà del Novecento è la storia dell'inizio, cioè del passaggio diretto dalla campagna all'industria. Una platea attenta, quella degli studenti aretini a cui sono destinate queste lezioni di educazione civica organizzate dall'Associazione Intratevere Tarno. Tra loro magari ci sarà il prossimo imprenditore, sindaco o parlamentare aretino. Come vorrebbe che queste storie che Claudio porterà all'attenzione dei ragazzi venissero recepite, introitate da cervelli così giovani e in crescita? Esattamente come ha detto, cioè che qualcuno di loro, se non di quelli che sono presenti stamani mattina, qualcuno dei loro coetanei diventi per l'appunto sindaco o imprenditore, faccia qualche cosa di buono per se stesso, per la sua famiglia ovviamente e per la nostra comunità. E adesso parliamo di sanità perché da oggi il dottor Notar Giacomo è il nuovo direttore di zona del distretto aretino. Vediamo il servizio. E' sicuramente un incarico importante e stimolante sia a punto di vista professionale ma anche umano. Mi sto rendendo conto della... io ho iniziato questa mattina ma ci sono tante cose interessanti e importanti ma anche tanti problemi da affrontare via via. Certo ci sono delle scadenze a brevissimo, penso al trasferimento di via 25 Aprile in via Cortatoni quindi del distretto, della direzione del distretto che verrà trasferito a breve e quindi quella sicuramente sarà una priorità che dovrò affrontare. La cosa che sarà più fondamentale è il rapporto con i cittadini. Il rapporto con i cittadini ha ragione importante perché se riusciamo a essere chiari, a far comprendere le esigenze non solo dei cittadini ma degli operatori, dei professionisti, si riesce a lavorare tutti quanti meglio e rispondere meglio alle esigenze e ai bisogni dei cittadini. Non sempre accade questo però io ritengo che la comunicazione col cittadino sia fondamentale per lavorare bene. Adesso un appuntamento politico domani alle 21.15 ad Arezzo all'Auditorium Popolare Bruno Buozzi di via Montecervino. Il PD organizza l'incontro politiche del lavoro e formazione dall'Unione Europea ai territori. L'appuntamento è organizzato dal PD regionale e dalla Federazione Provinciale di Arezzo e si inserisce nell'ambito del progetto Europa in Circolo. All'iniziativa di domani saranno presenti Cinzia Del Rio, presidente della sezione lavoro, affari sociali e cittadinanza del Comitato Economico e Sociale Europeo, Francesco Corti, esperto di questioni sociali europee e consigliere del ministro degli affari sociali del Belgio, Irene Agnolucci, esperta di diritto europeo, componente del Forum Europa del PD nazionale della segreteria provinciale di Arezzo, Daniela Rondinelli, eurodeputata in Commissione Occupazione e Affari Sociali. Adesso parliamo di arte, si intitola Pathos, il dipinto di Franco Fedeli dedicato ai terremotati dell'Aquila. Il progetto è nato e sostenuto anche dal Comune di Lucignano che aveva messo a disposizione dell'artista una sala del Palazzo Comunale che adesso è stata poi donata al Comune dell'Aquila. Vediamo. Quest'opera io l'ho realizzata per rendere omaggio a questo territorio martoriato. È un'opera con caratteri espressionisti, con colori forti e vivaci e rappresenta secondo me un qualcosa di drammatico ma nello stesso tempo anche di rinascita. Si intitola Pathos il dipinto di Franco Fedeli dedicato ai terremotati ed adesso donato al Comune dell'Aquila. Nel Palazzo Comunale che è stato recentemente restaurato e che accoglie questa grande opera di 3 metri per 2 dal titolo Pathos nelle sale del Consiglio. Il dipinto Olio su tela era già stato collocato nel Museo di Lucignano con la volontà di poterlo poi esporre anche in alcune città colpite da recenti terremoti per dare così un segno di vicinanza, affetto e rinascita alle popolazioni. Nella rappresentazione si vedono alcune immagini che lo sono ben chiare che rappresentano anche questa forza di reazione. Addirittura c'è una figura che sostiene la città, l'altra è come una figura crocifissa ma nello stesso tempo non lo è e tiene la città che si fa arco sopra un cielo tempestoso, rosso, violento e ci sono delle nubi che si muovono a livello dinamico che danno un carattere chiaramente espressionista e rendono questo dramma evidente. In chiusura del nostro telegiornale una notizia di sport, parliamo di nuoto, otto titoli regionali per la chimera nuoto ai campionati toscani giovanili invernali. Il secondo fine settimana dell'importante manifestazione regionale è stato dedicato alla sessione maschile e ha visto la società retina festeggiare otto ori, otto argenti e sette bronzi con un totale di 23 medaglie che si aggiungono le nove della settimana precedente conquistata nelle categorie femminili. La somma di tutti i risultati ha permesso alla chimera nuoto di centrare due ottavi posti nelle classifiche generali di cadetti e ragazzi tra le società di tutta la Toscana fornendo indicazioni positive in vista dei campionati italiani giovanili in calendario tra venerdì 5 e mercoledì 10 aprile. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata. Arrivederci.